L'ipotesi del cosiddetto sindaco d'Italia, forse l'abbiamo detto anche a Presidente Meloni, è un'ipotesi, secondo noi, tra le più bislacche, perché a parte che non ha eguali e non ha altri paesi che l'hanno mai adottata, a differenza che in un comune o in una regione si dà il caso che nel nostro ordinamento ci sia anche il Presidente della Repubblica, che cosa succede a quel punto tra un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento e un Presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini? Secondo noi la risposta è che al primo conflitto o contrasto il Presidente del Consiglio dirà io sono stato eletto dal popolo e tu sei stato eletto invece da quelli che stanno dal Parlamento e quindi è un sistema conflittuale.